ciao a tutti e benvenuti questa lettura per il segno dell'acquario è una lettura senza tempo quindi il momento in cui tu leggerai o meglio guarderai questo video sarà probabilmente il momento giusto per te per ricevere i messaggi che contiene se senti il bisogno di ricevere altri messaggi o di integrare questo messaggio ti invito ad andare a vedere il tuo ascendente o un segno predominante nel tuo tema natale io mi chiamo lisa mi occupo di crescita personale spirituale e per questo motivo queste letture non sono divinatorie non vado a cercare di capire il tuo futuro ma piuttosto di darti uno spunto di riflessione una chiave di lettura diversa per poter superare un blocco che hai in questo momento nella tua vita o risolvere una tematica se questo video ti piace ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina in questo momento in questo modo sarai aggiornato tutte le volte che esce un nuovo contenuto partiamo con l'oracolo del wicca per poi continuare con i parocchi ho già estratto la carta per questione di rapidità e per voi è uscita la farfalla la carta numero 24 cosa vi sta dicendo non c'è bisogno di prendere decisioni in questo momento ma vivi spontaneamente la vita almeno per ora la farfalla una vita molto breve quindi vive per forza nel qui e ora vedi la bellezza in tutte le cose e vivi con intensità il presente e un po' il concetto del vivere come se fosse il tuo ultimo giorno che non vuol dire che deve esserlo anzi spero proprio di no ma è il concetto è assaporiamo davvero ogni momento che viviamo ci rendiamo conto che questa vita non durerà per sempre è un promemoria importante per molte persone che magari stanno subendo la vita senza veramente viverla intorno a te ci sono molte cose meravigliose da scoprire questa carta vi propone anche un'affermazione un'affermazione che vi invito a ripetere a voce alta tutti i giorni più volte al giorno proprio per creare maggiore presenza nella vostra vita creare maggiore gratitudine quindi un'energia alta un'energia elevata un'energia che porta altre situazioni per cui essere grati io amo la bellezza io amo la bellezza e non si tratta di bellezza per forza estetica e fisica no la bellezza della vita la gioia della vita le emozioni elevate le situazioni belle e questo noi richiamiamo a noi quello che affermiamo e quello su cui noi mettiamo l'attenzione la sfida una riflessione da fare magari anche scrivere eh quello che vi arriva pensando a questo qual è l'esperienza più meravigliosa che ho fatto quindi cominciare a mandare proprio l'energia verso la bellezza verso la gratitudine verso ciò che la vita anche in qualche modo vi ha donato vi ha dato la possibilità di eh di fare esperienza andiamo a vedere i tarocchi che cosa hanno da portare come messaggio abbiamo il cavaliere di bastoni il re di bastoni e il dieci di denari wow quindi cavaliere di bastoni e re di bastoni entrambi energie del fuoco molto potenti molto eh attivi in un certo senso il cavaliere di bastoni eh è un è un invito in un certo senso di agire di muovervi seguendo le vostre passioni seguendo quel fuoco interiore e in tante letture sta uscendo questo messaggio ultimamente quindi si vede che c'è bisogno di questo c'è bisogno di contattare quel fuoco interiore che molte persone purtroppo anche negli ultimi anni a causa di tutto quello che sta succedendo hanno visto spegnersi dentro di sé hanno visto il fuoco mano a mano diventare sempre meno forte cioè meno divertimento magari c'è meno connessione con le proprie passioni con quello che una volta ci piaceva fare oggi facciamo più fatica di fare quindi ritornate a capire che cosa accende il vostro motore interiore qual è il vostro fuoco e agire andando verso queste cose o portando queste cose nella vostra vita per andare verso quello che desiderate creare e col re di bastoni che è sempre la stessa energia l'invito è proprio di rendervi conto che nel momento in cui voi siete nelle vostre passioni siete anche nel vostro potere le vostre passioni sono il vostro potere e lo associo un po' al terzo chakra il potere personale la possibilità di affermarsi di capire che cosa siamo chi siamo e permetterci di essere questa cosa qui nella nella totalità questo porta carisma porta leggerezza porta anche la capacità di divertirsi e tutto questo porta al dieci di denari che è una carta pazzesca perché si parla di grandissima abbondanza un'abbondanza che voi siete in grado di creare nella vostra vita di portare nella vostra vita e l'abbondanza può essere di denaro ma è di tutto perché queste letture sono generali quindi può essere abbondanza di relazioni positive che siano di amicizia di coppia di famiglia abbondanza di gioia abbondanza di esperienze abbondanza anche perché no di materia quindi di denaro perciò per raggiungere questo per creare quell'energia dentro di voi o per accendere per nutrire dentro di voi l'energia necessaria per creare questa abbondanza nella vostra vita e per attirare questa abbondanza nella vostra vita mi invito di nuovo a ripetere con l'affermazione proprio perché porta come dicevo all'inizio l'energia della gratitudine più noi siamo grati più noi attiriamo cose per cui essere grati ma allo stesso tempo usate le vostre passioni usate la vostra parte passionale la vostra capacità di appassionarvi ma soprattutto cercate situazioni che portino passione nella vostra vita spero che questa lettura sia utile per molti di voi noi ci vediamo presto con le prossime letture e intanto vi mando un grande saluto a presto